Presidente Paniccia, le imprese friulane sono preparate, attrezzate per il futuro o se sì oppure devono lavorare di più e in che campi e in che settori? Allora, credo che il ruolo delle associazioni e della Camera di Commercio sia quello proprio di aiutare le imprese a crescere. Noi lo stiamo facendo da una ventina di anni come modello di media impresa, visto come l'imprenditore che guarda il mondo non soltanto perché la sua azienda è una parte del mondo ma perché ritiene che possa essere più importante nella crescita e quindi dare al sistema economico e soprattutto al nostro regionale delle opportunità migliori. Il nostro Paese ha circa 200.000 imprese che esportano. 200.000 imprese ma il 95% che sono piccole imprese come modello italiano esporta solo il 7% del totale. 2.000 imprese invece esportano per il 93%. Questo significa che senza una crescita dell'impresa, senza ragionare di aggregazioni, di sinergie, di acquisizioni, il futuro del nostro Paese è sicuramente a rischio. Il nostro compito è quello di dare conoscenza, competenza e istituzionalmente spiegare che si può essere manager di un'impresa più grande o imprenditori di un'impresa che vuol crescere e vuol andare a competere nei mercati internazionali. Penso che questo sia un diritto e un dovere anche da parte dell'Associazione. E le imprese stanno rispondendo a questa vostra chiamata, a questa vostra sollecitazione? Direi assolutamente di sì. All'inizio in questo tavolo dove siamo oggi in associazione si riunivano 3-4 persone solo per parlare del futuro. Oggi ne vengono 30 o 40. Questo significa che la concezione che continuare con un modello ormai superato di imprese e di individuo ma un modello invece di coesione e di affrontare insieme il futuro è quello unico vincente e quello a cui noi dobbiamo tendere. Tra equiti in questi giorni si parla tanto di crowdfunding, mini bond, altri strumenti di crescita dell'impresa. Quali sono secondo lei le strade nuove anche che le imprese possono prendere per crescere, per svilupparsi e uscire da questa crisi? Allora, prima di tutto ci sono due punti. Uno è un cambiamento della mentalità degli imprenditori e degli operatori. Nel senso che se non ci si rende conto, a mio modo di vedere, che una certa fase di questo modello di sviluppo è terminata e quindi la crescita per via interna ormai fa fatica o comunque non riesce ad avere i tassi di sviluppo che si avevano in passato. Quindi o si va oltre questo modo di pensare ed è il primo punto oppure se no comunque la vedo difficile. Poi c'è tutto il tema degli strumenti. Però prima c'è un cambiamento di mentalità che è necessario. Tra i vari strumenti, sicuramente quelli che ha citato lei, sono oggi, come dire, nella fase embrionale perché parlare oggi di mini bond è sicuramente molto interessante, però si sta avviando un mercato che porterà progressivamente alla debancarizzazione dei flussi finanziari verso le imprese. Però stiamo parlando ancora di fenomeni molto embrionali. Cosa diversa invece sono altri strumenti, come appunto quello di cui poi ci puiamo noi a livello professionale, anche con le private equity, che sono già strumenti più consolidati, magari nuovi per le PMI, però consolidati sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della strumentazione dell'operazione in Italia. Questo ovviamente porta di pari passo il tema del rafforzamento patrimoniale delle aziende che è una condizione qua, non oggi, perché è inutile che stiamo a parlare della situazione in cui si trovano le aziende per quanto riguarda il livello di indebitamento e l'impossibilità nella quale si trovano molto spesso di programmare e fare degli investimenti. Quindi rispetto agli strumenti che diceva lei prima, secondo me ci sono già da oggi delle strumentazioni, c'è un set di strumenti che possono essere utilizzati già da subito. Questi sono in particolare quindi? Ma allora, anzitutto ci sono tutti gli strumenti che riguardano il rafforzamento patrimoniale, quindi ci sono fondi di private equity di varia natura che possono aiutare l'azienda sia in termini di ricapitalizzazione, sia in termini di ricambio generazionale, sia nell'ambito della ricomposizione delle quote societarie e delle società. Quindi diciamo che oggi in Italia c'è una platea, una serie di operatori, che più o meno saranno una cinquantina di operatori specializzati, che riescono a fornire equity, quindi con un ingresso nel capitale delle aziende. Grazie.